Ben trovati con un nuovo appuntamento con risultati e classifiche, partiamo immediatamente dalla Serie C giunta alla sua 34esima giornata, una giornata particolarmente importante soprattutto per la zona salvezza ma anche per la promozione diretta, partiamo proprio dal Lecce che vince in trasferta al Reggio Calabria e riesce in qualche modo ad allungare soprattutto sul Trapani che invece è stato sconfitto dalla Virtus Francavilla, benissimo invece nella zona calda, nella zona rossa della classifica la Fidelisandria che vince contro l'ormai retrocessa Acragas per 1-0 e supera in classifica anche la regina facendo un passo veramente importante verso la salvezza, il derby tra Monopoli e Biceglie invece si chiude con il 2-0 proprio per i bianco-verdi ma andiamo a vedere nel dettaglio i risultati e la classifica di questo 34esimo turno. Casertana Sicula Leonzio 1-1, Cosenza Catanzaro 0-0, Matera Rende 0-1, Regina Lecce 0-1, Virtus Francavilla Trapani 2-0, Fidelisandria Acragas 1-0, Fondi Paganese 4-5, Monopoli Biceglie 2-0, Catania Juve Stabia il posticipo del lunedì ha riposato il Siracusa. In classifica Guida e Lecce con 68 punti, Trapani e Catania 63, Monopoli 48, Matera 47, Juve Stabia e Rende 46, Cosenza 45, Siracusa 44, Virtus Francavilla e Sicula Leonzio 42, Casertana 41, Biceglie 38, Catanzaro 37, Fidelisande 35, Regina 33, Paganese 32, Fondi 26, chiude l'Acragas con 10 punti. Andiamo a vedere i tanti highlights di questa 34esima giornata del torneo di Serie C partendo da Fidelisandria, Acragas, Matera Rende, Regina, Lecce, Virtus Francavilla, Trapani con i servizi di Antonio Porro e Davide Suriano. Passo decisivo verso la salvezza per la Fidelisandria che al degli Ulivi supera 1-0 l'Acragas, fanalino di coda del campionato in una partita dominata per oltre 85 minuti dai bianco-azzurri. Nel finale l'espulsione di Cegli ha dato solo un leggero brivido ai tifosi andriesi. Papagni conferma il 3-5-2, recupera in extremi Sabruzzese, Lancini e Taurino. Out Mauro Antonio tra i pali spazio a Cilli, in mediana rientrano Piccini e Longo, Tiritiello passa a destra, in avanti al fianco proprio del recuperato Taurino c'è Lattanzio. Cambia molto anche Criaco rispetto alla sfida casalinga contro la Virtus Francavilla, Chance per Caternicchi e Saitte in mediana, in avanti l'inedita coppia Camarà-Moreo. Parte con il piede sull'acceleratore la Fidelis che si rende pericolosa al secondo minuto, azione dalla destra di Taurino e sponda di Lattanzio per Piccini che calcia dal limite, Lomonaco si rifugia in angolo. Quattro minuti più tardi cross dalla sinistra di Lancini e colpo di testa di Lattanzio, Lomonaco blocca senza difficoltà. Al decimo invece ci prova Tiritiello dai 25 metri, l'estremo difensore siciliano blocca in due tempi. La Fidelis è padrona del campo e al diciannovesimo va vicinissima al vantaggio. Cross dalla sinistra di Lancini e conclusione volante di Longo che si infrange sulla traversa, poi il colpo di testa di Piccini viene deviato in angolo. Il meritato gol della Fidelis arriva comunque al ventisettesimo. Calcio di punizione dalla sinistra e colpo di testa vincente di Danilo Colella che insacca l'angolino della porta difesa da Lomonaco. Prima rete stagionale per il centrale bianco-azzurro. La reazione dell'Akragas è pressoché immediata con la conclusione dal limite di Camarà. Cilli blocca in due tempi. Landria però continua a spingere al 35esimo Taurino ben servito da Longo. Calcia un preciso rasoterra che chiama all'ennesimo intervento Lomonaco. Si va a riposo con la Fidelis avanti 1-0. Nella ripresa la storia non cambia ed è sempre la squadra di Papagni in proiezione offensiva. Al 48esimo la palla del reddoppio. Capita sui piedi di Lattanzio che perde il tempo della conclusione e poi calcia centralmente. Lomonaco respinge come può. Al 53esimo, quinto su punizione, serve al centro ancora Lattanzio che calcia a botta sicura. Il portiere siciliano si distende e devia in angolo. Papagni vuole il reddoppio e cambia in attacco inserendo Scaringella e Nadarevic per Lattanzio e Taurino. Al 60esimo Longo serve al centro dell'area Celli che però non inquadra lo specchio della porta. Il match cala d'intensità con il passare dei minuti e i bianco-azzurri gestiscono con poche difficoltà il prezioso vantaggio. Ma all'86esimo la Fidelis riesce nel compito di complicarsi la vita. Svarione difensivo, Dammacco si invola verso la porta e viene falciato da Celli al limite dell'aria. Espulsione per il centrale difensivo e Andria costretta a difendere in dieci nel finale di gara. L'Akragas però non riesce a pungere al triplice fischio e festa per la Fidelis. Che scavalca in classifica la regina e con questi tre punti pesantissimi vede sempre più vicina la salvezza. Effettivamente devo dire che abbiamo fatto un ottimo primo tempo. In cui abbiamo avuto diverse occasioni, una traversa, un gol, diverse parate del portiere. Credo anche un rigore di Sacro Sanso su Lattanzio. Abbiamo fatto girare bene la palla come ci sta capitando nelle ultime gare e nel secondo tempo invece è avvenuto, oltre a qualche possibilità, in una parata su un tiro di Lattanzio abbiamo fatto poco ed è venuto fuori un po' il timore di pareggiare la gara e quindi di perdere dei punti importanti e dal punto di vista psicologico abbiamo patito il secondo tempo. Credo la giustifico più che per la sufficienza ma per un po' il timore di giocare la palla nel modo giusto perché comunque sapevamo che era una squadra che nelle ultime gare aveva pareggiato a Cosenza e aveva perso di misura per 1-0 con diverse squadre importanti per cui probabilmente sotto l'aspetto psicologico abbiamo patito il fatto che non abbiamo fatto il secondo gol che avremmo meritato nel primo tempo. Dopo una settimana complicata e passata nel ritiro di Roma il Lecce di Liverani vince in trasferta a Reggio Calabria grazie ad una zampata di Mancosu che vale tre punti essenziali in vetta alla graduatoria visto anche il concomitante stop del Trapani a Francavilla. La squadra di Maurizio invece per l'occasione schierata con il 3-5-2 con Tulissi e Bianchimano in avanti esce sconfitta al Granillo e trova la quart'ultima piazza in classifica per Liverani invece la scelta ricade sul 4-3-1-2 Costa Ferreira alle spalle di Di Piazza e Saraniti poco più di 4 minuti per vedere la prima occasione Lecce Lepore, Scodella al centro e Saraniti di testa giralato tutti i limiti regini di questa stagione in difesa vengono fuori all'undicesimo minuto di gioco quando Di Piazza da sinistra serve al centro Rasoterra Gatti respinge corto in una zona dove Mancosu non può proprio sbagliare il gol del vantaggio giallorosso due minuti dopo tuttavia arriva la risposta della regina con una conclusione dal limite strozzate dal lato di Mezzavilla 17 primi ed è ancora di piazza a correre a sinistra con un tiro mancino potente ma ben deviato da cucchietti in corner Lecce padrone del campo e Saraniti un minuto dopo prova nuovamente di testa ma l'estremo difensore di casa blocca a terra La formazione ospite abbassa il ritmo di gioco ma la regina non ne approfitta e dal 35esimo ci prova dalla distanza ancora Mancosu ma il pallone finisce alto La formazione di casa tuttavia allo scadere del primo minuto di recupero trova l'occasionissima per il pari punizione dei 30 metri e Bianchimano di testa non sfrutta l'indecisione in uscita di Peruchini L'occasione scuote i regini che dagli spogliatoi tornano più determinati che mai e dal 48esimo è sempre Bianchimano in sforbiciata a provarci nel cuore dell'area di rigore ma la sfera è altissima Liverani scuote i suoi dalla panchina e dal 65esimo arriva un bel contropiede con Dubicass che serve Mancosu abile ad inserirsi ma non altrettanto a calciare in diagonale con la sfera al lato di Poco tre minuti dopo è sempre il fantasista Leccese ad accentrarsi bene da sinistra e da liberarsi per un tiro altissimo sulla porta di Cucchietti ma al 78esimo arriva l'occasionissima per il pari di casa lancio lunghissimo dalle retrovie per Bianchimano che salta Cosenza e calcia a botta sicura nel cuore dell'area di rigore ma è Peruchini a salvare tutto con i piedi è la regina a cercare con insistenza il pari e ci va vicinissima anche all'82esimo quando il cross di Gatti trova il velo di legittimo ma alle sue spalle arriva Condemi che tocca debolmente beffando Peruchini ma non lo stesso legittimo abile a calciare via la palla sulla linea di porta all'89esimo poi mischia in area leccese dove Peruchini e Legittimo stoppano il tentativo finale di Armeno grande sofferenza per il Lecce nel finale che al primo minuto di recupero tuttavia trova la giocata personale di Dubikax la cui conclusione finisce a lato è l'ultimo brivido di un match che per il Lecce di Liverani significa tre punti d'oro nella corsa alla Serie B Il Monopoli batte con il più classico dei risultati il Biceglie e fa suo un derby che sa ormai di playoff per la squadra bianco-verde accade tutto nel primo tempo con il gol di Sunas e l'autorete di Giron a chiudere di fatto un match mai in discussione in favore dei padroni di casa il tecnico Scienza sceglie il 3-5-2 con Sunas e Sarau in avanti il 4-3-3 quello di Mancini per il Biceglie anche se dal primo minuto in campo ci vanno le sorprese Russo e Vassallo dopo un quarto d'ora di studio il Monopoli a prendere le redini del gioco e Mangini in diagonale spedisce fuori di poco alla prima vera occasione da rete al diciottesimo poi Vassallo si supera sulla botta dalla distanza di Mercadante ma sugli sviluppi del corner arriva il vantaggio di casa e Sarau a battere l'estremo difensore ospite dopo un rimpallo con Petta il gol tuttavia non scuote il Biceglie che alla mezz'ora rischia sull'azione personale di Sunas ben bloccata da Vassallo dopo cinque minuti poi arriva anche il raddoppio del Monopoli questa volta Sunas trova un suggerimento a centro aria ma è Giron a deviare nella propria porta una nuova doccia fredda per il Biceglie che non riesce a reagire ed anzi al 41esimo rischia di capitolare per la terza volta su un preciso corner di Sunas per la testa di Sarau ma la sfera finisce a lato subito in campo Jovanovic nella ripresa ma è sempre il Monopoli a farsi vedere in avanti al 52esimo con un cross teso dalla destra di Sunas per Sarau ma è bravo Vassallo ad anticipare l'attaccante Monopolitano due minuti più tardi ci prova il neo entrato Jovanovic dalla distanza ma Bardini blocca il pallone al 69esimo poi è Toschic a calciare su punizione dai 25 metri ma l'estremo difensore di casa para con sicurezza al 73esimo torna in avanti il Monopoli con il solito Sonaseglia del suo tiro neutralizzato da Vassallo con qualche incertezza in angolo al 90esimo poi arriva anche il tiro di Salvemini in contropiede ma il pallone finisce altissimo in pieno recupero è Paolucci con una volée a batter Vassallo ma la sfera non inquadra l'incrocio dei pali non c'è più tempo ed il Monopoli vince il derby pugliese e mette un punto fermo verso la corsa playoff colpo della Virtus Franca Villa che allo stadio Fanuzzi di Brindisi stende la corazzata Trapani con il punteggio di 2-0 grande prestazione degli uomini di D'Agostino che centrano la seconda vittoria consecutiva e dell'anno nel primo tempo emerge un buon equilibrio tra le due squadre ma è il Trapani di avere l'occasione più ghiotta al 21esimo con Evacuo che di testa prova a sorprendere Albertazzi ma il numero uno bianco celeste respinge la difesa libera la risposta più concreta dei padroni di casa arriva a 27esimo con un colpo di testa di Maccarone sul calcio d'angolo ma Furlan para con sicurezza nella ripresa resta l'equilibrio ma la buona occasione per la Virtus arriva al 65esimo con un calcio di rigore fischiato a proprio favore per fallo di mano in aria di Fazio dal dischetto si presenta Anastasi che si fa ipnotizzare da Furlan che respinge e tiene a galla il Trapani è un momento di appannamento per i siciliani e ne approfittano i pugliesi che al minuto 81 trovano l'insperato vantaggio Albertini parte sulla destra e serve un assist perfetto per Biason che centra la porta ed è 1-0 per la Virtus Franca Villa il Trapani si riversa in avanti alla ricerca del pareggio ma si scopre troppo e al 92esimo gli uomini di D'Agostino la chiudono con Madonia che manda al bar Rizzo e Furlan trovando la rete del 2-0 triplice fischio e per la Virtus Franca Villa arriva l'aggancio al decimo posto valido per i playoff mentre per il Trapani si complica la rincorsa a Lecce ora il distacco sale a 5 punti il Rende torna a vincere dopo tre sconfitte consecutive lo fa allo stadio Franco Salerno di Matera dove gli uomini di Auteri vengono stesi nel secondo tempo dalla rete di Gigliotti per i Lucani e la seconda sconfitta consecutiva dopo la trasferta di Trapani nel primo tempo il Matera rendersi subito pericoloso con un colpo di testa di Gigli che impegna De Brasi al superintervento in volo miracoloso nell'occasione il Rende risponde al 29esimo con Gigliotti che supera la difesa ma tu per tu con Tonti si fa ipnotizzare fallendo il possibile vantaggio l'equilibrio regna Sovrano nonostante tutto ma il Matera è troppo impreciso in zona gol nella ripresa come detto arriva il vantaggio degli ospiti al 64esimo Vivacqua supera in velocità la difesa del Matera impegna Tonti sulla sua conclusione ma sulla respinta nulla può l'estremo difensore Lucano su Gigliotti che sorprende tutti e trova il tapì vincente nel finale Matera prova a cercare il pareggio ma i biancorossi tengono bene e portano a casa i tre punti ora il Rende sale a quota 46 punti in classifica ad una sola lunghezza dal Matera che da ora in poi dovrà guardarsi bene le spalle Passiamo alla Serie D trentesima giornata dunque quattro gare al termine della regular season e il Potenza continua la marcia verso la Serie C vincendo un'importante gara contro il Gravina in trasferta il Taranto invece batte la Cavese che resta ancora seconda in classifica dando naturalmente un assist importante ai Lucani matematicamente ai playoff proprio il Taranto in compagnia di Cerignola e Altamura nulla da fare per il Gravina proprio sconfitto dal Potenza ma vediamo nel dettaglio i risultati e la classifica di questo trentesimo turno ricordando anche che la Sporting Fulgor è la prima matematica retrocessa da questo campionato alto ottavoliere audace Cerignola 0 a 0 Franca Villa Versa Normanna 4 a 0 Taranto Cavese 2 a 1 Frattese Gragnano 0 a 0 Sporting Fulgor Manfredonia 1 a 3 Pomigliano Sarnese Rinviata Gravina Potenza 0 a 1 Picerno Team Altamura 1 a 2 Nardò Turris 1 a 1 in classifica guida il Potenza con 74 punti Cavese 66 Team Altamura 63 Audace Cerignola e Taranto 59 Gravina 47 Picerno 46 Nardò 45 Gragnano 36 Franca Villa 33 Turris 32 Sarnese 31 Pomigliano 29 Alto Tavoliere 27 Frattese Aversa Normanna 26 Manfredonia 16 Chiude La Sporting Fullgor Già retrocessa In eccellenza Con 12 punti Di questo Trentesimo turno Andiamoci a rivedere Taranto Cavese E Gravina Potenza Grazie ai servizi Di Mario Di Mario Borracino Ci mettono impegno Determinazione Spensieratezza E tanta forza di volontà I giovani del Gravina Conquista Invece Il massimo risultato Con il minimo sforzo Il Potenza La prima della classe Detta legge Anche sul sintetico Del vicino Con questo gol Realizzato poco dopo Il quarto d'ora Della prima frazione Da Siclari Una rete Per tre punti Importantissimi Che valgono Di fatto Una serie ipoteca Sulla promozione Diretta tra i professionisti La formazione Di Nicola Ragno Quando mancano quattro turni Al termine Della stagione regolare Può infatti Vantare ora Otto punti di vantaggio Sulla Cavese Sconfitta A sua volta A Taranto Grande festa Per i duemila Sostenitori Rosso-Blu Giunti sulla Murgia Padroni di casa Con tanti giovani In campo Pericolosi in avvio Con una punizione Di Molinari Disinnescata da Brezza Poi sale in cattedra Siclari Che prima Sfiora il gol Di testa E successivamente Rompe l'equilibrio Sfruttando al meglio L'assist di qualità Servito da Coccia Il vantaggio Galvanizza il potenza Pericoloso Prima della mezzola Con Coppola Il cui colpo di testa Termina sul fondo Ospiti In vantaggio All'intervallo Il Gravina Prova a giocarsela Senza timori Irreverenziali Anche nel corso Della ripresa Ma sono i lucani A rendersi pericolosi Con Franza Ottima La replica Di L'Oliva E con l'ex Guadalupi Che colpisce la traversa Sulle sviluppi Di un calcio d'angolo La migliore palla gol Per il pareggio Dei locali Capita poco dopo L'ora di gioco a Ceglie Che però non inquadra Lo specchio Da posizione favorevole Ci prova A metafrazione Il mio entrato Carruso Brezza C'è e riesce A deviare in corner Poi chance Di testa per Dorsi Ma anche questa volta Senza effetti positivi Per il Gravina Idem Poco dopo Sulla sventola Dalla distanza Di Balzano Il potenza Resiste E conduce In porto A un successo Molto probabilmente decisivo Nel duello Promozione con la Cavese I murgiani di contro Cancellano anche Le ultimissime speranze Di raggiungere La zona playoff Ma lasciano Il campo A testa alta E mettono Ancora una volta In vetrina Giovani Interessanti E di sicuro A venire Iacovone Inespugnabile Taranto Matematicamente I playoff Con quattro turni Di anticipo Dopo il successo Nel big match Contro la Cavese Doppio Ancora Nella ripresa Squadra di Cazzaro Sempre con crete E cinica Tra le muramiche Per la formazione Campana di Bitetto Invece uno stop Che significa Probabilmente L'addio Alla prima piazza In favore di un potenza Vittorioso In terra pugliese Contro il Gravina Il 4-2-3-1 Tarantino Ha in favetta L'unico terminale Offensivo Assistito dal trio L'orefice D'Agostino Ancora Per la Cavese Invece il classico 4-3-3 Con Oggiano Martinello E Fella In avanti Gara subito Viva E Cavese Con Oggiano Al terzo minuto Ma Pellegrino Respinge Poi occasionissima Taranto Al decimo Ancora Perfettamente imbeccato Da D'Agostino A tu per tu Con bisogno Si fa respingere Però il tiro Tre minuti Ed una errata Respinta di Miale Trova pronto Fella Che aggancia Ma manda Al lato Sempre l'attaccante esterno Campano Al diciottesimo Prova una conclusione Pericolosa Ma al lato Rispetto alla porta Difesa da Pellegrino Cavese Ancora pericolosa Al ventesimo Con Oggiano Che crea un altro Pericolo nel cuore Dell'area di rigore Ma la palla Si spegne fuori Al venticinquesimo Poi sempre L'attaccante Campano Calcia in porta Ma la sfera È salvata praticamente Sulla linea di porta Da Corbie Sulla respinta Massimo Manda fuori Pressione dei Campani Rotta solo al trentaduesimo Grazie ad una punizione Di Marsili Che Rosania Intercetta Ma spedisce altissimo Poi nuovamente Cavese Che al trentottesimo Va ad un passo dal vantaggio Pellegrino Respinge Come può Un colpo Di testa ravvicinato Di Fellà E sulla ribattuta La girata di Martinello Sfiora Il palo Tanta Cavese Poco Taranto Per un primo tempo Che si chiude Senza altri particolari Pericoli Ma nella ripresa Cambia il film Della partita E gli Ionici Cercano subito Il vantaggio Neanche un giro Di lancette E la girata Di Lorefice Nel cuore Dell'area di rigore Trova pronto Bisogno Alla respinta Estremo Ospite Che è attento Anche sulla ribattuta Dello stesso attaccante Pugliese La squadra di Bitetto Nel miglior momento Del Taranto Tuttavia Va vicinissima Al gol 14 minuti E Fellà Calcia all'interno Dell'area di rigore E complice Una deviazione di Miale La sfera Si stampa Sulla traversa Traversa Pareggiata immediatamente Dagli Ionici Tre minuti più tardi Con una violenta Conclusione dal limite Di Lorefice Al ventunesimo Insidioso Il colpo di testa Di Massimo Deviato in angolo Da un attento Pellegrino Ma poi torna in cattedra Ancora il Taranto Al ventitreesimo Occasionissima Per Ancora Il quale All'interno Dell'area di rigore Si libera Di un difensore Ma calcia alto Tutto solo Davanti al portiere Al ventiseiesimo Tuttavia Lo stesso Ancora Non fallisce Il vantaggio Assist Dalle retrovie Di Marsili Per l'attaccante Tarantino Che calcia bene E segna La rete Del vantaggio Rosso-Blu Doccia fredda Per la Cavese Che subisce il colpo E concede Campo al Taranto Che trova anche Il raddoppio Quasi immediato 34 minuti Di gioco Della ripresa E sul corner Del solito Marsili Arriva l'incornata Di testa Perfetta Di Ancora 2-0 Ed ospiti Sorditi Sino al quarantaduesimo Quando Martignello Perfettamente servito Da Oggiano Accorcia Le distanze Battendo Pellegrino A nulla Però Servono I cinque minuti E Taranto Vittorioso Allo Iacovone Per la festa Dei tifosi Rosso-Blu In vista Dei playoff 28esimo turno Nel torneo Di eccellenza Che si avvia Veramente Alla conclusione Della regular season Ne mancano Solo due Di giornate Per concludere La stagione Regolare Copertina Inevitabile Per Barletta E Vigortran In particolare Il Barletta Che vince Sul terreno Di gioco Dell'Atletico Aradeo Ed in questo momento Sarebbe salva Matematicamente Per quel che riguarda Invece Il Trani Batte Con un sonoro 4-0 Il Novoli E prova A proseguire Nella corsa Playoff Verso Appunto Un posto Negli spareggi Promozione In vetta Ci resta Ancora Il Fasano Che invece Vince Contro L'Atletico Vieste Tiene ancora A due punti Di distanza Un Avetrana Veramente Ancora Corriaccio E che batte In trasferta All'Unione Calcio Biceglie Vediamo però Nel dettaglio I risultati E la classifica Di questo 28esimo turno Fasano Atletico Vieste 2-0 Unione Calcio Biceglie Avetrana 1-2 Atletico Aradeo Barletta 0-1 Galatina Casarano 0-5 Gallipoli Corato 1-2 Vigor Trani Novoli 4-0 Molfetta Omnia Bitonto 2-3 Bitonto Otranto 1-0 In classifica Guida sempre Il Fasano Con 55 punti Avetrana 53 Casarano 50 Gallipoli 49 US Bitonto 48 Omnia Bitonto 47 Vigor Trani 45 Assieme al Corato Atletico Vieste 37 Molfetta 35 Barletta 31 Otranto 30 Unione Calcio Biceglie 26 Atletico Aradeo 23 Novoli 19 Chiude il Galatina con 9 punti Di questo 28esimo turno andiamoci a rivedere Fasano Atletico Vieste Unione Calcio Biceglie Avetrana Vigor Trani Novoli Molfetta Omnia Bitonto Bitonto Otranto grazie ai servizi di Davide Suriano Mario Borracino Antonio Porro e Francesco Abruzzese La Vigor Trani nonostante l'ampio ed inevitabile turnover marcia a ritmi notevoli allo stadio comunale i ragazzi di mister Piazzulli battono i Novoli siglando ben 4 reti a 0 prestazione senza storie e soprattutto senza distrazioni quella messa in campo dei tranesi che mercoledì prossimo affronteranno la gara d'andata di Coppa Italia contro l'Unipo Mezzia Nel primo tempo la Vigor ci mette 7 minuti per trovare il vantaggio cross dalla sinistra di Faccini e rete di campo reale dopo una mischia in aria il Novoli non riesce mai ad impensierire i tranesi e al 42esimo infimo trova una clamorosa traversa prima della fine del primo tempo l'arbitro assegna un calcio di rigore a favore della Vigor per un fallo subito da Lorusso in aria dal dischetto Faccini non sbaglia e manda le due squadre a riposo sul punteggio di 2 a 0 Nella ripresa la musica non cambia il Novoli non scende mai in campo e la Vigor Trani prova a chiuderla in fretta al 34esimo Lorusso si guadagna il secondo calcio di rigore di giornata si incarica dalla battuta lo stesso attaccante che dagli 11 metri non sbaglia ed è 3 a 0 Nel finale a 40esimo Infimo chiude ulteriormente i conti con un tiro a giro imprendibile per l'estremo difensore ospite triplice fischio la Vigor Trani batte 4 a 0 il Novoli ora testa a mercoledì 11 aprile quando al comunale alle 15 arriverà l'Unipo Mezzia per la semifinale di andata di Coppa Italia Tre punti fondamentali per la rincorsa ai playoff come sono fondamentali le tre reti segnate al comunale di Terlizzi l'Omnia Bitonto batte soffrendo nel finale per 3 a 2 il Molfetta Mister Giusto deve fare a meno di Dentamaro per il resto schiera la solita formazione con in attacco Stefanini, Facecchia e Albrizio per quanto riguarda gli ospiti invece Mister De Candia deve fare a meno di Lizzano espulso per doppia munizione nel recupero di Giovetì contro riunione calcio Biceglia e fa rifiatare De Santis, Zotti e Picci al loro posto giocano titolari Vitucci, Turitto, Dellino e Ladogana i padroni di casa partono a forte al primo minuto Augelli vede l'estremo difensore ospite fuori dai pali e con un pallonetto insacca la palla in rete ma il guardalinea annulla il gol per fuorigioco al quinto minuto sono i bianco-blu a rendersi pericolosi con Paterno che calcia in porta ma trova un pronto Savut che respinge la conclusione nel proseguimento dell'azione Turitto arriva in area di rigore ma viene messa a terra da due difensori molfettesi i bitontini reclamano il calcio di rigore ma l'arbitro opta per la munizione per simulazione 4 minuti più tardi il Molfetta si rende pericoloso da pala inattiva con lo russo al diciassettesimo è bianco-rossi ancora in evidenza sul calcio di punizione a calciare questa volta Augelli ma Vitucci respinge la sfera in corner alla mezz'ora arriva il vantaggio omniano ad entrare nel tabellino dei marcatori Epatierno che lasciato tutto solo ha il tempo di fermarsi e calciare la sfera nell'angolo dove Savut non può arrivare al trentanovesimo arriva il raddoppio degli ospiti a segnare è Ladogana che viene dimenticato un'altra volta dalla difesa Savut riesce solo in parte a parare il tiro dell'attaccante che termina però in rete la prima frazione si chiude sul punteggio di 2-0 per i bitontini il secondo tempo si apre con l'espulsione al decimo minuto di Pinto per fallo sulla Dogana in area di rigore vehementi sono le proteste dei padroni di casa che non cambiano il pensiero dell'arbitro dagli 11 metri va Patierno che si fa ipnotizzare da Savut abile a parare e mantenere ancora in gioco la sua squadra al tredicesimo Martinelli da pala inattiva colpisce la palla di testa che finisce di poco a lato al quarto d'ora Patierno cerca di rifarsi dall'errore del rigore calciando dal lato destro dell'area ma Savut respinge in corner al ventesimo i bitontini calano il tris cross di Fiorentino per la testa di Patierno che mette la palla sotto l'incrocio con la doppietta di oggi l'attaccante arriva a quota 12 gol in campionato al ventinovesimo anche l'Omni è costretta a giocare in dieci uomini a causa dell'espulsione di Rubini dal successivo calcio di punizione il Molfetta accorcia le distanze Augelli calcia ma Vitucci respinge debolmente sul pallone si fionda Fabiano che sbaglia il primo tentativo poi però Paradiso insacca il secondo gol al trentacinquesimo i padroni di casa riaprono la partita dal corner battuto da Rosselli la palla carambola verso Festa che appoggia la palla in rete il match finisce con la vittoria sofferta dell'Omnia che continua la sua corsa verso i playoff il quinto posto però è sempre distante un solo punto il prossimo match in programma domenica vedrà l'Omnia affrontare la delicata sfida interna contro il Gallipoli mentre il Molfetta già virtualmente salvo giocherà contro il Novoli beh indubbiamente la partenza non è stata di quelle vementi che di solito abbiamo un primo tempo giocato con bassa intensità ecco l'errore nostro è stato a parte sbagliare sui primi due gol una lettura di palla abbiamo avuto una reazione non immediata siamo stati in campo probabilmente ad aspettare gli eventi il primo tempo invece dovevamo reagire immediatamente Sì infatti ho notato che vi siete resi molto pericolosi sempre su palla inattiva l'avevate preparata così la partita? Beh non solo di solito siamo abituati a giocarci le partite con tutte le squadre quindi abbiamo preparato la partita per realizzare immediatamente un gol però non è andata bene come si prevedeva perché comunque l'Omnia ha fatto due gol il primo tempo ed era difficile chiaro che dopo i primi minuti del secondo tempo con l'espulsione di Pinto le cose si sono chiaramente complicate Questo che ci dovevamo giocare fino all'ultimo secondo del campionato l'accesso nel pre-off ne siamo consapevoli il nostro obiettivo oggi era vincere ci siamo riusciti e dobbiamo continuare su questa strada Dopo l'espulsione di Rubini cosa è successo? Avete mollato? No non abbiamo mollato subentra la paura come penso che sia normale però dopo ovviamente è passato questa scossa diciamo che siamo assestati non abbiamo più rischiato niente Sì avete detto che il campionato ve lo giocherete fino alla fine forse siete stati troppo tempo a rincorrere avete pagato un po' l'inizio di stagione non esaltante Sì però oramai è inutile guardarci indietro i nostri risultati li abbiamo fatti guardiamo l'ultimo periodo le ultime dieci partite che sono state più che positive e quindi guardiamo fiduciosi il futuro perché è consapevole della nostra forza con la speranza vivamente di entrare nei play-off Una liberazione è da poco passata la mezz'ora della ripresa quando Gennaro Manzari il solito Gennaro Manzari varrebbe da dire sfrutta il cross di Sisaglie di testa batte caroppo e la rete che stende l'Otranto al Città degli Olivi regala il ritorno al successo dopo quasi due mesi di astinenza all'USB Tonto gara per la verità più complicata del previsto per i neroverbi non brillantissimi sul piano del gioco ma determinati al massimo nel voler mettere fine alla sequenza senza vittorie missione compiuta dunque nonostante l'inferiorità numerica nell'ultimo terzo di partita bastano meno di 5 minuti ai padroni di casa orfani nell'occasione degli squalificati Elia Bonassia ed Antonacci per creare la prima palla goal Sisalli si presenta tutto solo davanti a Caroppo ma sbaglia la mira con il mancino da posizione defilata Gino Zinfolino è costretto a modificare il proprio scacchiere prima del quarto d'ora Gian Gaspero deve arrendersi a un problema fisico dentro al suo posto Marcellino diventano così due i classi 2000 in campo per i neroverbi oltre al neoentrati infatti c'è Terreboli schierato nell'undici di partenza l'Otranto comincia in maniera ordinata e compatta poi prova anche a prendere coraggio ma la conclusione ti diarrà è da rivedere il primo quarto di partita non è indimenticabile l'USB Tonto in seguito prova ad alzare il ritmo Rana conclude centralmente blocca Caroppo Sisalli servito da Manzari crossa dalla corsia Mancina il giovane Marcellino rimedia solo un calcio d'angolo protesta in neroverdi prima della mezz'ora per un contatto in aria ai danni di Rana il signor Lopez di Bari opta per il giallo per simulazione ai danni dell'attaccante dei padroni di casa il 10 Bitontino servito da Manzari ci prova poco dopo con il sinistro traiettoria alta altre proteste nel finale di tempo gli uomini di Gino Zinforino chiedono rigore per un presunto tocco prebito in aria sugli sviluppi di un tiro di De Santis ma il direttore di gara lascia correre Ghiotta occasione prima del riposo anche per i Salentini ci vuole una super risposta di Addario per opporsi alla conclusione di Mancarella 0-0 dunque all'intervallo la ripresa si apre con un'altra novità nel Bitonto c'è Piperis al posto di Aprile ed è proprio il mio entrato in apertura a sfiorare il gol del vantaggio conclusione alta sopra la traversa Bitonto pericolosissimo poco dopo ma il colpo di testa di Manzari su cross proveniente dalla corsia Mancina difetta in precisione non per molti centimetri per la verità il copione è consolidato i neroverdi attaccano l'Otranto si difende Terrevoli dopo l'ora di gioco verifica i riflessi di Carroppo abile a respingere poi però si complica la gara dell'US quando De Santis si becca il cartellino rosso per Soma di Gialli e lascia i suoi in dieci uomini nonostante la differenza numerica in campo però lo spartito non cambia balla geniale metafrazione di Manzari che Sisalli non sfrutta a dovere è solo corner sull'opposizione di Carroppo nulla può il portiere degli Idruntini però poco dopo sul colpo di testa vincente di Manzari su Assis di Sisalli da rapinatore d'aria il centro del nuovo Bitontino che spacca in due la partita padroni di casa in vantaggio l'Otranto nonostante la superiorità numerica non sa reagire anzi sono in neroverdi nel primo dei 5 minuti di recupero a sfiorare la doppio con Terrevoli che non sa incidere tutto solo davanti a Carroppo e fa infuriare il mio entrato Terrone ben appostato su secondo palo poco male in ogni caso per gli uomini di Zinfolino vincono comunque per 1-0 ritrovano la via del successo dopo 4 pareggi consecutivi 6 partite di fila senza gioire per i 3 punti confermano la quinta posizione in classifica e restano artefici del proprio destino nella rincorsa ad un piazzamento playoff la salvezza per gli Idruntini invece sarà tutta da conquistare nelle ultime due puntate della stagione regolare Il Fasano vince sul proprio terreno col Vieste e si prepara ad affrontare un finale di fuoco con la trasferta di Avetrana e allo scontro interno con il Casarano il tecnico Giuseppe La Terza è in piena emergenza dovendo fare a meno dello squalificato Montaldi match winner all'andata e degli infortunati Morga e Devita Fumai e Girardi non sono al meglio mentre l'unica nota positiva viene dal ritorno di Lanzillotta che viene subito schierato in mezzo al campo passano 50 secondi e il Fasano è subito pericoloso lancio di Lanzillotta per Corvino che calcia di poco a lato al terzo angolo di Corvino colpo di testa di diritto che sfiora la porta stessa sorte un minuto dopo traversone di Corvino dalla sinistra e ancora colpo di testa di diritto che manca nuovamente il bersaglio ma il vantaggio arriva al dodicesimo sponda di diritto per Serri che ha un buon controllo e batte Tucci con un grandestro al ventisesimo altro calcio d'angolo di Corvino e altro colpo di testa di diritto che sfiora il raddoppio al ventinovesimo grande occasione per il Fasano lancio di Lanzillotta con Serri che si presenta tutto solo davanti a Tucci che compie un miracolo sul destro del numero 7 fasanese al trentaseesimo lancio di ganci diritto che si invola sul filo del fuorigioco tutto solo davanti a Tucci si fa parare la conclusione al trentanovesimo Serri mette in mezzo ancora per diritto che al volo calcia alto al quarantaquattresimo capita sui piedi di Bernardini la palla del raddoppio ma il giovane calciatore di casa ben servito da Corvino spara alto la prima frazione di gioco si chiude così sull'uno a zero dopo trenta secondi dall'inizio della ripresa il Fasano ancora pericoloso cross di Serri e tocco di diritto di poco fuori ma il centravanti del Fasano si sblocca al cinquantottesimo quando mette dentro un bel cross di Bernardini per il due a zero al sessantacinquesimo altra grande giocata di Serri per Corvino che tenta una giocata alla Cristiano Ronaldo ma mette fuori al sessantanunesimo è diritto a sprecare l'ennesima sgroppata di Serri palla di poco alta all'ottantunesimo primo tiro del Vieste lo scocca di vita ma finisce fuori all'ottantacinquesimo però il Fasano a sfiorare il tris traversone di Pistoia e girata al volo di Fumarola di poco fuori miracoloso Tucci all'ottantacinquesimo con un doppio intervento prima su Corvino e poi su diritto un minuto dopo è il Vieste a colpire il palo con di vita è l'ultima emozione domenica ad Avetrana ci si gioca il campionato prima sconfitta interna al di Lido che fa malissimo all'Unione Calcio Biceglie la formazione di Mister Rumma cede 2-1 alla Avetrana e rende sempre più complicato il cammino verso la salvezza diretta match che appare subito in discesa per gli azzurri che al quarto minuto sbloccano il risultato con Mignogna artefice di uno splendido calcio di punizione che non lascia scampo a Petranca 60 secondi dopo lo stesso numero 10 azzurro si rende protagonista di un sinistro a giro che termina di poco a lato il match è vivace con la vetrana che prova ad insidiare la difesa azzurra con avvolgenti trame di gioco ma Bartoli e compagni tengono alta la concentrazione a 6 minuti dall'intervallo gli azzurri vanno vicini al raddoppio Quercia mette al centro per la corrente Mignogna ma il fantasista azzurro manda alto da ottima posizione nella ripresa l'Unione un'altra ghiotta chance al 51esimo cross col contagiri di Mignogna per Quacquarelli che mette al centro per Albano ma l'ex Gravina non impatta la sfera successivamente il fantasista azzurro si rende protagonista di una punizione dalla distanza respinta da Petranca si avventa sulla sfera Palumbo che non c'entra il bersaglio grosso al 60esimo però arriva la doccia fredda per l'Unione la vetrana pareggia i conti con una splendida rovesciata di Cappellini che trafigge e amoroso 5 minuti dopo Ventura ha due occasioni per riportare in vantaggio i padroni di casa ma in entrambi i casi manda la sfera a lato al 75esimo i Bicegliesi rimangono in inferiorità numerica per l'espulsione di Dell'Olio e la vetrana sfrutta al meglio la superiorità numerica al 79esimo quando Salto trova la rete del 2-1 sugli sviluppi di un corner nel finale c'è l'assalto del team Bicegliesi all'83esimo Mignogna si rende protagonista di una bordata su punizione che spacca la traversa mentre in pieno recupero Ventura si fa impiantizzare dal portiere Salentino finisce con la festa della vetrana che vede sempre più vicina la vetta e la delusione per l'Unione Calcio che a due giornate dalla fine vede sempre più vicini gli spareggi play-out chiudiamo con la serie A di Calcio A5 dove il Cisternino impegnato nella 24esima giornata di questo torneo perde in casa della Luparense che adesso è la capolista di questo torneo ma perde insomma ben figurando con un solo gol di scarto in questo torneo c'è stato in settimana il ritiro del Pescara che adesso di fatto risulta a 0 punti in classifica ma andiamo a vedere immediatamente i risultati e la classifica di questo 24esimo turno Acqua e Saponi Cifuzza 4 a 3 Latina Lazio 6 a 4 Caos Reggio Emilia Camedosson 5 a 3 Pesaro Felli e Eboli 3 a 0 Luparense Cisternino 4 a 3 Milano Calcio a 5 Pescara 6 a 0 Real Rieti Napoli Calcio a 5 1 a 1 in classifica guida la Luparense assieme all'Acqua e Sapone con 52 punti Camedosson 50 Napoli Calcio a 5 44 Real Rieti 40 Caos Reggio Emilia 39 Pesaro 37 Latina 32 Felli eboli 24 Cisternino I Cifuzza al 21 Lazio 16 Milano Calcio a 5 13 Chiude il Pescara con 0 punti come detto già retrocesso perché ritiratosi dal torneo di questa giornata andiamoci a rivedere proprio gli highlights di Luparense e Cisternino con il servizio di Antonio Porro Un coriaceo e arcigno Cisternino cede di misura ai campioni d'Italia della Luparense dopo una sfida combattuta e ben giocata dalla formazione di mister Gian Andrea nonostante nonostante una rossa ridotta all'osso e le pesanti assenze di Capitan Bruno e Iosico i giallorossi vendono cara la pelle nello storico palasport di San Martino di Lupari costringendo il team di Marin a soffrire sino al suono della sirena finisce 4-3 in terra veneta un risultato che lascia intatte le speranze e salvezza della squadra cistranese ormai vicinissima all'obiettivo dopo il clamoroso ritiro del Pescara partono fortissimo i padroni di casa che con uno scatenato Borgablanco si portano su 2-0 nei primi 5 minuti il match appare in discesa per la Luparense che però deve fare i conti con la reazione del cisternino Fabigno al decimo accorcia le distanze e poi sempre il pivot brasiliano firma il 2-2 a pochi secondi dall'intervallo ad inizio ripresa la Luparense allunga nuovamente con le reti di Jefferson al terzo minuto e Iesulito al tredicesimo ma i giallorossi non molano la presa e a 4 minuti dalla fine accorciano le distanze con Fabigno protagonista di giornata con una tripetta nel finale la squadra di Gianna Andrea prova il tutto per tutto per strappare un punto ai campioni d'Italia che però si difendono con ordine sino al tripice fischio 4-3 finale ed applausi per entrambe le contendenti sabato prossimo il cisternino tornerà sulle tavole amiche del Palauetila per affrontare Rear di Eti e con questo era davvero tutto non mi resta che darvi l'appuntamento a domenica prossima sempre con risultati e classifiche alle ore 21 e 30 sempre sul canale 17 di Telesveva ma vi ricordo anche gli altri appuntamenti sportivi del lunedì in diretta si comincia alle ore 15 con Eccellenza di Puglia con Mario Borracino per discutere e parlare di Serie D ed Eccellenza per poi arrivare alle ore 21 invece sempre in diretta con Pane, Amore e Fidelis con Luca Guerra Peppino, Ernesto e Damiana Sgaramella per parlare della vittoria della Fidelisandria contro l'Akragas non mi resta quindi che darvi appuntamento a domenica prossima arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti